Penso che Dario è famoso anche perché ha una valanga di carte di Magic o di altri giochi, o fa collezioni di cose giapponesi. Ha una valanga di hardware, una valanga di oggetti. Quindi ha le carte da 100k. Ok, non è un buon investimento, è collezionista. Al momento mi sembra forse quello con più problemi. Non ho ben capito, è un buon investimento? Non è un buon investimento essere collezionista? No, assolutamente no. Ovviamente ci può essere l'aspettativa che quello che tu compri guadagna valore, ma intanto stai battendo qualche mercato di riferimento? Comunque un collectible fa sempre parte di un mercato che è molto molto di nicchia, è molto volatile. Cioè nessuno mi garantisce che fra 5 anni le carte di Magic valgono di più di quanto valgono oggi, che battano l'inflazione, non è affatto garantito. Poi sono oggetti fisici, che vanno comunque protetti, assicurati. Una carta Magic da 100k la assicurerei, la metterei in banca, in una cassetta di sicurezza. È un asset, è come un quadro. Comprare quadro, comprare arte. Per me l'arte non è un grande investimento. Quindi a mio avviso il comprare cose per collezionismo non è un investimento. Però c'è la gioia, c'è la gioia. Se a me piacciono board games, non li compro per investimento. Li compro perché mi piace avere board games. Quindi c'è anche questo aspetto. Ma di per sé parlare di investimento, quando parliamo di cose collezionabili, non va preso sotto questo punto di vista. Non è un investimento. Non è il modo migliore per investire. Parliamo di altissima volatilità e ritorni attesi, credo, molto bassi. La tiene in banca, infatti. E costa tenerle in banca le cose. Non è che te le tengono gratis. Devi avere una cassetta di sicurezza e costa. La carta più rara, la Black Lotus, l'ha presa a 38k e ora si vende a 100k. Ok, va bene, perché ha avuto fortuna. Pure i dogecoin si compravano a 30k, si rivendevano a 100k. Poi dopo crollo, cioè a lungo termine è diverso, non stai comprando un asset produttivo. Diverso sarebbe se lui prende carte preziose e le affitta a gente che va a fare tornei. Quindi lui la sua Black Lotus la vende a 1000k a torneo, l'ha affitta a 1000k a torneo, diventa una casa che dai in affitto. Perché no? Affitti la carta più figa a 1000k a torneo. Chi vuole viene, se la viene a prendere, più spese di spedizione, si ama con le poste la Black Lotus, immagino. Quindi se diventa un asset produttivo, sì. Se resta un asset improduttivo, è un robo che speri che prenda valore all'infinito, più dell'inflazione. Qual è il senso? Perché? Perché una cosa collectible dovrebbe crescere più dell'inflazione. Cioè se oggi un Black Lotus vale come n stipendi, ok? Facciamo un esempio concreto. Stipendio 2000, Black Lotus 100k, quanto vale? 100k? Vale 50 stipendi. Perché fra dieci anni dovrebbe valere più di 50 stipendi? Ma lo stipendio sarà diventato 3000 e quella sarà diventata 150.000. 50 stipendi. Perché dovrebbe continuare a valere il numero di stipendi? Vuol dire che fra mille anni vale infiniti stipendi una carta del genere? No. Perché dovrebbe crescere più dell'inflazione? Non c'è alcun motivo intrinseco. C'è il fatto che potrebbe farlo. Certo potrebbe farlo. Può darsi che l'umanità darà più valore a Magic che a un'altra cosa. Però magari se invece compravano dei francobolli hanno perso valore perché l'umanità ha dato meno valore a questo che a quell'altro. Non tutto può crescere più dell'inflazione se non genera valore. Se la community di Magic si espande, certo c'è un sì. Se si espande la community di Magic allora aumentano il numero di persone interessate. Può dare sì, certo c'è un sì, ma non tutte le comuni si possono espandere. È ovvio che magari lui può influenzare. È un mercato molto più ampio, quindi lui non ha il potere di influenzare il mercato così tanto. Se però io prendessi un gioco semi sconosciuto e cominciassi a scillarlo, a dire ragazzi il gioco del futuro è Rip the Gathering e magari prende piede. È ovvio che ho anche contribuito a farlo crescere, quindi ho fatto market manipulation, però può avere un senso. Se invece sto su un mercato che va con alte dinamiche, sto scommettendo su una cosa ad altissima varianza, ad altissima volatilità, e con un ritorno atteso che è l'inflazione. Non vedo nessun motivo per cui cresa più l'inflazione. E quindi non è il modo migliore per investire. Meglio così è comprarsi bottiglie di vino in discoteca, sicuramente. È un modo migliore per spendere soldi con la speranza che mantengano il loro valore e con dei costi di storage annessi, costi di assicurazioni, se prende fuoco casa, se entrano i ladri e te le rubano, con dei costi di storage e di security associati. Però è comunque meglio di comprare le bottiglie di whisky. Stessa cosa con Rolex, con gli orologi? Sì, gli orologi sì, sono un'altra roba che chi lo fa per investimento... Allora, l'orologio... La parte... Allora, c'è un bellissimo posto di Nat Elizon su Utility vs Status, in cui, per semplificare alla grande, gli oggetti che compriamo hanno due funzioni. Uno è Utility e uno è Status. Cioè, da una parte mi serve una funzione, mi serve che l'oggetto che compro assolva ad una funzione concreta, e dall'altra voglio che mi dia Status, no? Se compro un vestito... Se compro una maglietta di Decathlon, che costa 10 euro, Status non ne dà, sono 10 euro di materiale e di funzione. Se abbiamo anche il marketing da sopra, vabbè, è un po' più complicato, però semplifichiamo un attimo, state con me. Se compro una maglietta che costa 10 euro, che ha zero valore di Status, sono 10 euro tutti quanti di Utility. Una maglietta da 100, firmata da non so chi, non so quanto costano le magliette di Armani, non lo so quanto costano le magliette. Una maglietta da 100, probabilmente avrà 20, sarà maggior qualità, sarà 20 euro di qualità e 80 del fatto che c'è scritto Moto Gucci, capito? Quindi, Status. Un orologio, K la sua quality, la sua Utility a 500 euro? Cioè, la meccanica più figa, quant'è che costa sta roba qua? Quanto è che costa avere l'orologio più figo del mondo come funzione orologio? Quanto è il massimo? Quanto potete spendere per avere un oggetto che ti dice l'ora, ti fa da cronometro se vuoi, ti fa da computer, diciamo che magari l'Utility può salire con gli Apple Watch o con gli altri wearable device, per il resto, se un orologio costa più di 500, c'è una forte componente Status, se costa 10.000, è tutto Status. Ok, quindi, siamo fuori dal mondo orologi, non parliamo più di un orologio, parliamo di un gioiello, ok? Quando compro un orologio che costa migliaia, la parte dell'orologio non c'è proprio più, potrebbe anche essere rotta, posso anche staccare la batteria, non mi interessa più niente. Mi interessa tanto che io ho un gioiello, sto indossando un gioiello, un braccialetto, un orecchino, un qualcosa. Quindi, la domanda diventa, i gioielli, vale lo stesso discorso che ho fatto prima per i collezionabili? Sì, investire in, anzi, quelle sono cose che si depreciano col tempo, i gioielli in generale, e sono ancora più rischiosi di scippo, di furto, assicurazioni, come escono dal gioielliere, dal gioieie, dall'orafo, perdono subito valore perché ti manca certificazione. Ora il mondo Rolex è diverso, quindi ho fatto una parentesi ampia, ora faccio una parentesi della parentesi. Rolex è diverso perché è un'azienda strana, Rolex. Ho un, uno degli ultimi ragazzi a cui ho fatto delle consulenze che ha lavorato in Rolex, Rolex è un'azienda particolare, è diversa, Rolex è un'azienda cittadina, Rolex è un'azienda di proprietà della città di Ginevra, Ginevra mi pare, e che quindi ha delle politiche un po' socialiste e quindi i roggi escono a un prezzo e appena escono valgono già il triplo perché il mercato dà un valore più alto. Quindi in teoria c'è gente che fa arbitraggio di Rolex, conosco gente, c'è una persona che conosco in prima persona che fa arbitra, due persone conosco fanno arbitraggio di Rolex. Però lì parliamo di una inefficienza di mercato, cioè io andrei dall'azienda Rolex e farei che cazzo li vende da fare 3.000 e la gente si ricompra 10.000. Ok, detto questo qui anche quella lì potrebbe essere una follia collettiva, cioè è uno status symbol, se un domani esce, non lo so, esce un'informazione che distrugge l'appetibilità dei Rolex è la fine, cioè se esce un'informazione che ne so, è qualcosa di non etico oppure un serial killer sgozza sempre con Rolex e si vedono le foto di Rolex che ammazza i bambini, potrebbe usare qualcosa che manderebbe Rolex a una bad PR, bad advertisement e sarebbe la fine per ogni collezionista. Quindi, non lo so, possedere un Rolex di per sé non è uguale al resto delle cose collectible. In generale, investire in arte e collectible non è investimento, è un modo migliore di spendere i soldi che spendere l'inconsumable. Un prodotto consumable è una spesa, un collectible è un asset che può crescere, non è il miglior asset che puoi comprare con quei soldi, via. Se compri una bottiglia di vino da 800 euro per berla è un costo. Se compri una bottiglia di vino collezionabile per poi rivenderla è una speranza che quell'asset cresca, ma non è il miglior asset, non è il miglior investimento che puoi fare. Se però poi ti piace c'è un aspetto di gioia, se tu dici mi piace comprare Rolex e sperare che aumentino il valore ma mi piace proprio guardarmeli però io ogni mattina mi alzo, vado alla vetrina e mi guardo i miei Rolex e me ne indosso ogni giorno uno diverso, ha un senso. So che Alessandro De Concini ADC fa così, ha collezione orologi, gli piacciono, c'è la gioia e c'è la gioia, via. Via. Via.